Capo Romeo, Romeo 1. La via di fuga è impraticabile. Attendo istruzioni. Nessuna alternativa e tu chi cazzo sei? No, 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 non voglio parlare con te. Silenzio. Passami Claire. No, voglio Claire. Parla. Improvvisare? Che cazzo vuol dire improvvisare? Quale sarebbe il piano B? Ok, c'è una galleria. Secondo tiro si porta a Broad Street. E non hai dubbi in proposito, giusto? Oh! Attenzione! Azzurrazione, attacchiamo l'attivazione, un'attivazione immediata. Unità di raffreddamento a E-5. Disseleggiamo gli elicotteri col NAPA. Profe, ho appena trovato un'uscita. Andiamocene, prima che i saggi prigiano. Azzurrazione, attacchiamo l'attivazione. Allarme gialla, attività rivela rilevata nel settore 2-DELTA-6. Cazzo, che genialata. Ipici errori da pivelli. Non posso aprire quella galleria. Davvero? Beh, io posso, cazzo. Avanti. Allarme gialla. Attività rivela in prosecuzione nel settore 2-DELTA-6. Tagli una spinta. Pseco. Pseco. Questo treno è pieno di... Materiale altamente esplosivo. Sì. Oh, sì. Sarebbe questo il tuo piano. Raggiù! 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 Avanti! Sto bene, andiamo! Manna, corazza! Psycho, Gio! Non so per te, ma secondo me ci è andata bene. Merda! Tesoro, qui parla il tuo soldato preferito. Apri una finestra per il rifugio. Arrivo in dieci minuti. Romeo 1, qui sta parlando Capo Romeo. Devi mantenere il protocollo radio. Porta alla base il macchinario. Passo e chiudo. Andiamo. Che manichino. Ascolta, è un apposto se la conosci. Non devi parlare delle visioni. Va bene? Psycho, perché mi chiama Macchinario?